Inaugurazione di un supermercato, un negozio di elettronica in quello che era il vecchio mercato del pesce, che opinioni ti sei fatta? Quando c'è qualcosa di nuovo è sempre una cosa positiva, bisogna vedere di che cosa si tratta e direi che in questo caso sia l'ennesima occasione perduta in una città che è proprio incapace di avere un quadro organico delle novità, di cui la città e i cittadini hanno bisogno. Avevamo un bel edificio razionalista degli anni 30, vuoto da anni, che avrebbe potuto essere tantissime altre cose. Erano state fatte ipotesi proposte di vario genere, un grande centro per l'arte contemporanea, un luogo della memoria, un luogo a disposizione di chi volesse avviare nuove attività per sperimentare, per proporre novità. Addirittura si era parlato anche di una possibile sede della moschea di Genova, di cose se ne sarebbero potute fare tantissime, come tantissime cose si sarebbero potute fare in altri luoghi che invece sono stati affrontati in maniera proprio così staccata, episodica. E questo non soltanto adesso, quindi non gettiamo le colpe soltanto sull'attuale amministrazione di destra. Pensiamo ad esempio all'operazione della Fiumara, che era questo straordinario complesso di archeologia industriale, in questo antico capannone di estremo fascino, che come si è fatto in altre parti d'Italia, in altre parti d'Europa, si sarebbe benissimo potuto recuperare mantenendo l'autenticità, naturalmente convertito a nuovi usi, ma poteva benissimo essere mantenuto. Invece arriviamo a un luogo che è una parodia dell'antico impianto industriale, di cui ripete e ripropone soltanto alcune forme, oppure un altro straordinario oggetto era il grande alto forno di Cornigliano. Un'altra occasione perduta è stato il Ponte Panodi. Abbiamo lo Scempio, che è stato fatto alla commenda di San Giovanni di Pre. A Cornigliano c'è quest'altro progetto folle, demenziale, ma molto redditizio, evidentemente viene portato avanti il cosiddetto Pala Bombrini, un edificio così polisportivo a ridosso della Villa Durazzo Bombrini, un luogo che meriterebbe ben altro, e via di seguito. Poi abbiamo l'NB, che su cui non si capisce bene che cosa si voglia fare. Tornando un attimo invece all'ex mercato del pesce, il responsabile dei rapporti con i soci di questa grande catena di supermercati ha detto che in effetti invece si restituisce un servizio importante per la cittadinanza da un lato e soprattutto si riqualifica una struttura che era chiusa da decenni. Cosa risponde invece alle critiche di chi dice che queste inaugurazioni di spazi commerciali all'interno di questi ambiti urbani rappresentano in questo caso come in altri un impoverimento del tessuto sociale del territorio? Io invece ritengo tutt'altro che rappresentino un'opportunità per la città, per i residenti qui del centro storico, per i numerosi turisti del centro del porto antico che gravitano in zona e avranno un'opportunità in più di acquistare dei beni alimentari, di bere un caffè, di acquistare qualcosa di elettronica che prima non avevano. Se aggiungiamo a questo una riqualificazione di un edificio che è chiuso da una quindicina d'anni, per cui un edificio nel centro storico chiuso non fa mai bene, io credo che invece dal punto di vista anche della rigenerazione urbana sia un grandissimo recupero. Che fosse chiusa da tanti anni, questo sicuramente è vero. Io avevo avuto modo di fare un sopralluogo con Otello Parodi qualche anno fa nel giugno del 2019 ed era uno spazio appunto abbandonato a se stesso ma di estremo fascino, con delle grandi potenzialità di utilizzo. Il fatto che adesso ci sia un supermercato di alimentari con accanto un grande magazzino di elettronica e un bistro, sì, per carità, può essere utile, però ne avevamo davvero bisogno in quel luogo lì, non si poteva fare dell'altro e soprattutto per la vendita di prodotti alimentari o di elettronica o di bistro, non c'è il resto della città vecchia in cui invitare i turisti e gli stessi genovesi ad andare a godere di queste meraviglie, di questi spazi straordinari che abbiamo dappertutto. Un altro esempio invece positivo di quello che l'ente pubblico, il Comune avrebbe voluto fare, ma che poi grazie all'ostinazione, grazie all'impegno di un altro ente pubblico, cioè il Ministero per i beni culturali, la soprintendenza archeologica, è stato invece risolto in positivo, è l'area archeologica di San Donato, gestita nell'ambito dei giardini luzzati, che avrebbe dovuto essere un parcheggio, il Comune di Genova a tutti i costi avrebbe voluto fare un parcheggio nonostante i resti emersi, ma grazie alla soprintendenza abbiamo adesso questo straordinario punto di attrazione, di memoria della città, di archeologia, con i resti del modesto anfiteatro che Genova aveva nel primo secolo dopo Cristo e soprattutto è un luogo straordinario a disposizione di tutti per attività culturali, per incontri, per star bene insieme e via di seguito.